Con la doppietta fatta alla Salernitana hai dimostrato a tutti che De Sousa è tornato, che De Sousa sta bene e che De Sousa è pronta a fare un campionato da protagonista. Come si diceva in estate e quando si è saputo del tuo arrivo a Chieti? Sì, sono contento della prestazione. Primo, poi anche sono arrivati due gol che hanno contribuito alla vittoria di domenica che è stata importante. Per quanto mi riguarda io dall'inizio della stagione, dal ritiro, ogni allenamento do al massimo perché voglio raggiungere degli obiettivi importanti quest'anno, prima per il Chieti e poi per me stesso. Partita con la Salernitana oramai agli archivi, un Chieti davvero bello, sei punti in classifico, ora c'è la trasferta di Fondi. Fondi sta attraversando un momento difficile, anche degli uomini importanti fuori nella partita con il Chieti, forse per i nero-verdi l'occasione giusta per continuare a vincere. Noi la cosa principale che dobbiamo fare è non sottovalutare il Fondi perché non ce lo possiamo permettere. Per ogni partita dobbiamo andare in campo per cercare di vincere senza snobbare nessun tipo di avversario. La nostra squadra è una squadra giovane, quindi non siamo in grado di poter gestire dei momenti, bisogna sempre con qualsiasi avversario dare il massimo, solo così possiamo lottarcela con tutti quanti. Guardando invece a De Sosa, ci racconti un po' la tua carriera dalla Serie A, cosa è successo, come sei arrivato a Chieti l'estate con il direttore Battisti? Io ho esordito, ho giocato tre anni con la Lodigiani prima di esordire con la Lazio in Serie A, dove ho fatto anche un gol. Dopodiché ho iniziato a girare un po', sono stato due anni a Torino, a 6 mesi a Catanzaro, ho giocato con Ancona, a Pescara, nel campionato sanmarinese. Ho avuto questi ultimi due anni un infortunio lungo, un pochino rognoso, quindi ho fatto sì che sono stato quasi due anni fermo per cercare di curarmi. Dopodiché quest'anno ho voluto riniziare a tutti i costi, non ho mai mollato allenandomi anche da solo, passando momenti difficili. Quest'estate grazie ai dirigenti del Chieti ho avuto questa opportunità importante per me, ho deciso di rimettermi in mostra e sono stato felicissimo. E ora faccio di tutto per cercare di recuperare il tempo perduto.